Ok, allora buongiorno a tutti, io mi chiamo Diletta Porchedu, sono una ricercatrice di ADAPT, che è l'associazione che si occupa di diritto del lavoro e relazioni industriali. Io in particolare sono una giuslavorista, quindi appunto laureata in giusprudenza, quindi mi occuperò, mi occupo principalmente di smart working. Vi mostro oggi una presentazione, qualche slide, riguardanti appunto questo istituto del diritto italiano di cui tanto si parla ma di cui spesso non si conoscono le caratteristiche specifiche. Importante appunto conoscere lo smart working anche perché nella prospettiva di un vostro futuro inserimento nel mondo del lavoro è bene conoscere appunto le caratteristiche di una modalità di organizzazione del lavoro e quello che tutte le stime dicono sarà parecchio diffuso nel prossimo futuro. Allora, condividiamo la presentazione. Ovviamente come ha detto la dottoressa Mellera, ci c'è ovviamente la chat. Io probabilmente leggerò le domande al termine della presentazione perché ovviamente la presentazione non mi consente di vedere la chat. E niente, sentitevi liberi ovviamente di fare qualunque domanda desideriate. Allora, iniziamo. Ok, guida pratica allo smart working. Allora, innanzitutto iniziamo a definire cos'è lo smart working. È tanto parlato di smart working negli ultimi mesi durante il periodo del lockdown, sia a livello istituzionale che a livello giornalistico, e però spesso si è fatto, si fa una notevole confusione sul termine smart working. Perché anche se questo termine è stato utilizzato, diciamo, per definire il lavoro da remoto che è stato condotto durante il periodo del lockdown, in realtà lo smart working è qualcosa di molto diverso. Lo smart working dovrebbe essere, che ovviamente come ben sappiamo significa lavoro intelligente, è più che altro una filosofia manageriale, quindi un modo diverso appunto per l'attore di lavoro di gestire le prestazioni dei suoi dipendenti. e in che modo si differenzia questa filosofia manageriale dal classico, diciamo, rapporto di lavoro subordinato, si basa sulla forte fiducia e responsabilizzazione che dovrebbe avere appunto il dipendente. Cioè il rapporto tra il datore e il lavoratore è quello di una grande fiducia. Il dipendente è responsabilizzato per quanto riguarda appunto lo svolgimento della sua prestazione e appunto non vi è più quel rapporto di controllo specifico che il datore di lavoro esercita sulla prestazione dei lavoratori appunto nelle modalità tradizionali di lavoro. Quindi è da qui, da questa appunto particolare gestione del rapporto di lavoro, che deriva la possibilità del lavoratore di lavorare appunto diciamo con una grande flessibilità sia temporale che spaziale. Quindi diciamo che lo smart working non è connotato, diciamo, nella sua definizione classica, non è connotato dal fatto che i lavoratori possano lavorare al di fuori dei locali aziendali, ma presuppone tutto un altro tipo di filosofia la cui conseguenza è invece il fatto che si possa anche lavorare al di fuori dei locali aziendali. Allora, in Italia, sebbene diciamo si sia fatta appunto confusione sul termine, non abbiamo una vera e propria legge che disciplina lo smart working così come l'ho appena definito. In Italia la legislazione prevede invece la regolazione del cosiddetto lavoro agile. Lavoro agile che è appunto l'unica declinazione normativa, come ho scritto in questa slide, dello smart working in Italia. Ovviamente già si capisce dalla terminologia la differenza che intercorre tra queste due modalità di lavoro. In realtà, lavoro agile, la parola agile diciamo che dà appunto l'idea di come appunto questo lavoro sia concentrato più che su tutti gli elementi che ho elencato prima, quindi fiducia, responsabilizzazione, eccetera, sulla flessibilità spazio-temporale della prestazione. Quindi, anche se l'Accademia della Crusca ci dice che smart working e lavoro agile sono sinonimi, in realtà designano due cose leggermente diverse. Comunque, nella presentazione, dato che l'unico modo, l'unico fonte legislativa di regolazione del cosiddetto smart working è la legge sul lavoro agile, parleremo della legge appunto 81 del 2017. Qui ho inserito anche un altro elemento che è il telelavoro. Il telelavoro è il cosiddetto antecedente del lavoro agile, è una modalità di svolgimento della prestazione, sia autonoma che parasubordinata che subordinata, che appunto prevede appunto la possibilità per i lavoratori di svolgere la prestazione da remoto. È connotata da elementi abbastanza differenziati da quelli appunto inerenti al lavoro agile, appunto ha delle differenti regolazioni per quanto riguarda strumentazioni di lavoro, salute e sicurezza, però su queste cose noi non andremo, cercheremo di semplicemente focalizzarci sul lavoro agile. Basta sapere che comunque quella sul lavoro agile barra smart working non è l'unica legislazione in materia di lavoro da remoto presente nel nostro paese. Noi oggi però parliamo della legge 81 del 2017 e varie altre fonti che vi poi vi elenco. Quindi, allora, dicevamo che appunto si parlava di smart working per quanto riguarda appunto il lavoro da remoto svolto durante il lockdown. Però, come dicevamo appunto, diciamo che appunto il lavoro svolto da remoto durante il lockdown non può rientrare effettivamente nella definizione di smart working e vedremo anche che non può neanche rientrare nella definizione di lavoro agile, perché vi sono delle differenze notevoli tra la pratica di quello che è stato svolto appunto a marzo-aprile dell'anno scorso e quello che in teoria comporta la legge 81 del 2017. La legge di 81 del 2017 si basa su un accesso al lavoro agile di tipo volontario, cioè si può accedere al lavoro agile solamente in seguito a un accordo individuale stipulato tra lavoratore e datore di lavoro. Come sappiamo questo non è avvenuto direi durante il lockdown, perché ovviamente avendo il lavoro agile uno scopo differente da quello appunto previsto dalla legge sia uno scopo di prevenzione del contagio, diciamo che c'è stata un'adibizione unilaterale da parte del datore di lavoro allo smart working appunto dei dipendenti, che loro lo volessero o no, il che è molto diciamo è molto lontano da quello che prevede appunto la filosofia dello smart working e la legge 81 del 2017. Poi un altro elemento che differenzia appunto il lavoro svolto da remoto durante il lockdown e il lavoro agile è il fatto che appunto durante il lockdown si lavorava soltanto dal domicilio, mentre la legge 81 del 2017 in realtà prevede che vi sia un'alternanza tra lo svolgimento del lavoro dentro i locali aziendali e al di fuori dei locali aziendali. Si dice proprio, la definizione proprio dice che il lavoro appunto deve essere svolto in parte all'interno, in parte all'esterno dei locali aziendali. Questo per la razio diciamo di questa previsione è quella per cui diciamo si vuole evitare quel tipo di isolamento che può caratterizzare, che appunto anche ha caratterizzato la prestazione dei lavoratori durante appunto il lockdown. In ultimo, dato che comunque è stato il lavoro da remoto nel 2020 è stato, è stato, potremmo dire improvviso, cioè vi è stata questa diffusione di massa, come ben sappiamo, del lavoro da remoto che ha portato molte aziende a semplicemente traslare le modalità di lavoro con cui si appunto si lavorava in azienda da remoto, quindi organizzazione fissa sulla base di orari, controllo del datore di lavoro e molto altro, cosa che in realtà sarebbe esclusa da quello che è la filosofia dello smart working e anche dalla legge sul lavoro agile, che appunto prevedono una diversa articolazione della prestazione non fondata su, appunto come abbiamo detto, su controllo fisso, ma su fiducia, responsabilizzazione, orientamento dei risultati e non al mero controllo delle ore. Quindi è bene avere bene chiaro che lo smart working non è qualcosa, non è un elemento contingente, cioè non è semplicemente una modalità che è stata presa, una modalità di lavoro che è stata adottata durante il periodo del lockdown per sopperire a, anzi, al fine di contrastare appunto la pandemia da Covid-19. È un vero e proprio strumento del diritto italiano, smart working, barra lavoro agile, userò questi termini in modo, diciamo, come sinonimi durante la presentazione per rendere la cosa più facile. Sappiate che c'è una minima differenza. Però ecco, appunto, non è un qualcosa di contingente e straneo appunto all'impianto del diritto italiano, ma è un'effettiva modalità di lavoro che probabilmente, data appunto questa grande sperimentazione che c'è stata a marzo aprile, vedremo sempre più spesso. Ok, dicevamo, ehm, lavoro agile, legge sul lavoro agile, legge numero 81 del 2017. Una legge con pochi articoli, pochi articoli, articoli dal 18 al 23, se non sbaglio. Quindi 5-6 articoli che danno una, eh, una disciplina abbastanza, mh, abbastanza, non direi vaga, ma abbastanza generale di quello che è, appunto, il, eh, il lavoro agile, eh, appunto, nell'ordinamento italiano. Queste normative, eh, ovviamente non bastano per regolare tutti i problemi concreti che comportano il lavoro agile, eh, nella sua applicazione, appunto, concreta. Vedremo poi che, eh, al fine di, eh, comprendere effettivamente la regolazione, ehm, la specifica regolazione del lavoro agile nei diversi contesti aziendali non è, non è, eh, sufficiente consultare solamente la fonte legislativa, ma è anche necessario consultare la fonte contrattual collettiva. Ma comunque adesso ci arriviamo. Allora, partiamo dalla definizione, definizione di lavoro agile, eh, articolo 18, comma 1, legge 81 del 2017. La definizione legale stabilisce in primis che il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato. Cosa vuol dire? Vuol dire che non è un, eh, una tipologia contrattuale. Non è, che ne so, rapporto di lavoro a tempo determinato, non è apprendistato, no. Non, non rientra neanche nella categoria di questi tipi di contratti. È, fa parte del lavoro subordinato. Quindi, eh, chi, eh, chi è assunto con contratto di lavoro subordinato potrà poi stipulare in seguito un accordo individuale di lavoro agile attraverso il quale lui e il datore di lavoro si metteranno d'accordo al fine di, ehm, svolgere appunto, eh, la prestazione parzialmente da remoto. Quindi, dicevamo, non si può essere, mh, adesso, mh, non so, magari sto anche dicendo cose che già sapete, però, eh, non si può essere assunti direttamente in lavoro agile. Non è, non esiste una prestazione lavorativa che, eh, appunto, è, mh, interamente, eh, delimitata, appunto, dall'accordo di lavoro agile. L'appunto, il lavoro agile è meramente una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato. Cosa che, peraltro, a differenza del telelavoro, che, invece, è applicabile anche ai rapporti autonomi e parasubordinati, come le co-co-co e altro. Comunque, dicevamo, modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, l'abbiamo detto, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi. Questo, ovviamente, richiama quella che è la filosofia dello smart working, quindi, là, eh, un tipo di management orientato, più che altro, ai risultati, più che al controllo della, eh, prestazione, eh, del, diciamo, della messa a disposizione del lavoratore per un determinato numero di ore, come avviene, diciamo, nel, diciamo, nel lavoro tradizionale. Ma questo, eh, ci interessa poco. Senza precisi vincoli di orario e luogo di lavoro. Ok, la legge sul lavoro agile, appunto, quindi definisce, eh, che non vi sono particolari limiti sul dove e sul, sul, sul quando il lavoratore può svolgere la propria prestazione. Chiaramente, eh, questa definizione deve essere, poi, integrata con altre, eh, appunto, altri, altri provvedimenti di legge, che avendo anche, per esempio, una, una derivazione comunitaria, come, per esempio, il decreto legislativo 66 del 2003, sull'orario, sull'orario di lavoro, eh, non possono essere, ovviamente, ignorati. Però, in generale, senza precisi vincoli di orario o luogo di lavoro. Con il possibile uso di strumenti tecnologici. Capiamo bene che questo possibile è un'esperienza remota, cioè, è un, possiamo dire che l'esperienza concreta ci insegna che il lavoro da remoto non è svolgibile, eh, senza strumenti tecnologici. Come dicevamo, la prestazione lavorativa viene eseguita in parte all'interno dei locali aziendali, in parte all'esterno, senza una postazione fissa. Quindi, la legge non prevede che, eh, si debba lavorare necessariamente sempre dal domicilio, quando si lavora al fuori, al fuori dei locali aziendali. Limitazioni possono essere, però, introdotte dalla contrattazione collettiva. Poi vedremo. Entro i suoi limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti da legge e contrattazione collettiva. Cosa significa? Eh, la legge prevede sia, eh, un normale orario di lavoro, quindi le, le cosiddette otto ore, e poi una durata massima dell'orario di lavoro, che comprende sostanzialmente sia l'orario normale che i potenziali straordinari. Quindi la legge pone un limite ai potenziali straordinari che un lavoratore può svolgere. La, eh, la legge sul lavoro agile prevede che, appunto, non si possa, eh, compiere, eh, non si possa, appunto, svolgere prestazioni al di fuori di questo limite. Quindi, ehm, quindi ecco, questo. Lo scopo, scopo della legge sul lavoro agile, espressamente definito dalla legge, è quello di incrementare la competitività dell'azienda, quindi lato azienda, e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Quindi si prevede che, ovviamente, il lavoratore potendo svolgere la prestazione al di fuori dei locali aziendali, che ne so, risparmia quel tempo che impiega, chiaramente, a, eh, ad andare a spostarsi verso la sede di lavoro. Quindi vi è un guadagno in termini, un beneficio in termini, appunto, di, ehm, di tempi di vita. Quindi, ecco, queste sono le due, eh, le due, le due principali finalità del lavoro agile. Ovviamente, come abbiamo visto, durante la pandemia si aggiunge, anzi, sostituisce totalmente queste due, queste due, questi due scopi, la, ehm, la volontà di prevenire il contagio da Covid-19. Però, insomma, nella, nella sua modalità ordinaria, eh, questi sono gli scopi della, della legge sul lavoro agile. Ok, ehm, come dicevamo, la, eh, il lavoro agile trova la sua fonte primaria in un accordo individuale. Quindi, nel contesto di un rapporto di lavoro subordinato, le parti possono stipulare un accordo individuale in forma scritta, nel quale, nel quale, nel quale sono contenuti, eh, le modalità con le quali il, il lavoratore, eh, può svolgere la prestazione da remoto. La legge prevede, l'articolo 19 della legge 81 del 2017, prevede che ci siano, eh, che il contenuto dell'accordo di lavoro agile, eh, sia, eh, abbia questi elementi, sostanzialmente. Vi devono essere contenute le modalità di esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali, le forme di esercizio del potere direttivo. Quindi, fondamentale nel rapporto di lavoro subordinato, è il potere direttivo che il datore di lavoro esercita sul lavoratore. Ovviamente, questo dovrà subire delle modifiche, dato che il lavoratore può svolgere anche, eh, da remoto la propria prestazione. Banalmente, il, 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 il datore di lavoro non può, eh, se avete presente, magari, che ne so, una piccola, o una media impresa, non può andare alla scrivania del dipendente e controllare che non sia, non sia su Facebook. Quindi, c'è necessità di, ehm, stipulare, effettivamente, di definire esattamente quali sono le modalità di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro. Disciplina degli strumenti di lavoro. Chi li fornisce? Il, il, il lavoratore può utilizzare il suo computer, il, chi è responsabile della sicurezza del buon funzionamento del, 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 degli strumenti tecnologici di lavoro. Tutte cose che non essendo definite dalla legge, come poi vediamo, devono essere definite nell'accordo individuale. Tempi di riposo, pause, eh, pausa pranzo, eccetera. Misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione. Cosiddetto diritto alla disconnessione, di cui adesso si parla moltissimo. Quindi, diciamo che la legge prevede che, eh, devono essere, appunto, stipulate queste modalità per assicurare la disconnessione nel momento in cui il lavoratore non svolge la propria prestazione. Vedremo come questo obbligo sia spesso disatteso. Durata, l'accordo può essere sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Ovviamente, così come, eh, è volontario l'accesso al lavoro agile, tendenzialmente è volontario anche il recesso dall'accordo di lavoro agile. Se, se il, l'accordo è a tempo indeterminato, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a 30 giorni, ok, oppure 90 giorni per, eh, i disabili. È possibile recedere senza preavviso, eh, nel caso, oppure prima della scadenza, se l'accordo è a tempo indeterminato, nel caso ci sia un giustificato emotivo. Quindi, se, per esempio, eh, che, che spesso, tra l'altro, sono, eh, già individuati nella contrattazione aziendale o nazionale. Se, per esempio, eh, vedo spesso, negli accordi che, per lavoro, analizzo, che, eh, il, il, esiste, è possibile causa di giustificato emotivo di recesso, è, per esempio, l'irreperibilità del lavoratore in lavoro agile. Nel senso che, se il capo, se il datore di lavoro chiama o, eh, cerca di contattare il lavoratore il quale non, non, non risponde, durante un orario di lavoro in cui egli dovrebbe essere reperibile, e questo è un giustificato emotivo di recesso, eh, dal lavoro agile. Ma ce ne sono anche altri di fantasiosi, per esempio, la, la, il fatto se il lavoratore, per esempio, non tiene un abbigliamento adeguato al, al contesto di lavoro durante il lavoro agile o cose di questo tipo. Quindi, ecco, però, la, diciamo, il fondamentale è ricordare che l'accesso al lavoro agile è volontario, così come volontario è recesso, sia da parte dell'adattore di lavoro che da parte del lavoratore. Ho diritto alla disconnessione, ne parlavamo prima. Quindi, è un vero e proprio diritto, così come definisce, appunto, come si, come sancisce la sua definizione, è un vero e proprio diritto per il lavoratore e un vero e proprio obbligo per il datore di lavoro. Ovviamente, essendoci metodi diversi per assicurare questo diritto alla disconnessione, sappiamo che le misure, appunto, devono essere calibrate rispetto al tipo di attività svolta e al contesto produttivo organizzativo di riferimento. Diciamo, dipende, vi sono tanti modi per assicurare questo diritto alla disconnessione, sia lo spegnimento del server, dei server aziendali, sia semplicemente raccomandazioni al lavoratore di non lavorare oltre il proprio orario di lavoro. Insomma, vi sono tanti modi di assicurare questo diritto, alcuni più efficaci, alcuni meno. ovviamente questa nuova modalità di organizzazione del lavoro porta numerose questioni, numerosi problemi tecnici, pratici, anche perché la legge, come dicevamo, non dà molte indicazioni in tal senso. Parliamo, per esempio, dell'orario di lavoro. Abbiamo visto che la definizione del lavoro agile sancisce che non vi sono precisi vincoli relativamente al tempo e al luogo di lavoro. Ok, e l'unico limite è quello della durata massima dell'orario di lavoro. Quindi, come vediamo qui, 48 ore settimanali. Quindi, ci si può chiedere, ma allora appunto il limite dell'orario normale di lavoro, le classiche otto ore, non devono essere rispettate? Come si può definire la disciplina degli straordinari? Vedremo che, appunto, nella contrattazione soprattutto aziendale, ci sono numerose differenti soluzioni per gestire l'orario di lavoro dei lavoratori agili. Alcune volte corrispondono, alcune volte questo orario corrisponde perfettamente all'orario dei lavoratori in azienda e altre volte invece magari vi sono differenti soluzioni, per esempio previsioni di fasce orarie o cose di questo tipo. Ovviamente, connesso al tema dell'orario di lavoro è la disciplina dei riposi, quindi necessariamente un giorno a settimana, necessariamente 11 ore al giorno e questi sono limiti previsti dalla normativa europea, di derivazione europea, quindi inderogabile. E la disciplina delle pause. Poi, ovviamente, abbiamo anche, come abbiamo già parlato della disconnessione, vari modi per garantirla, di shutdown, quindi dei server, consegna ritardata di email, disattivazione di dispositivi, warning automatici, tanti modi. Dicevamo, poi, appunto, la mancanza di vincoli ha ovviamente effetti anche sul luogo di lavoro. Quindi, il lavoratore può veramente lavorare da qualunque luogo e gli decida? Può lavorare da un parco? Può lavorare da una biblioteca? Diciamo che le soluzioni adottate sono differenti. Ovviamente, bisogna mettere sul piatto della bilancia la limitazione di questi luoghi di lavoro che è utile per il datore di lavoro per esercitare un maggiore controllo, diciamo, sulla prestazione del lavoratore, come poi, per esempio, non so, esempio, se il datore di lavoro decide che il lavoro agile può essere svolto unicamente dal domicilio, da una parte lui si tutela perché se, perché evita, tendenzialmente in un'abitazione privata, ci sono molti meno rischi per la salute del dipendente che, per esempio, in un luogo aperto, oppure vi è molta meno possibilità che vengano divulgati dati aziendali. Dall'altra parte, però, se questa limitazione riguardante il luogo, il luogo di lavoro, il luogo di lavoro, appunto, determina un, diciamo, un venir meno di quella della, della razio della legge, sostanzialmente, lo spirito della legge che, appunto, riguarda la possibilità di lavorare proprio anytime, anywhere, risulta un pochino messa da parte, ecco. Quindi, ecco, le soluzioni sono differenti. Potere direttivo. Potere direttivo, come abbiamo detto prima, è necessario definire come il datore di lavoro eserciterà il suo potere. Per esempio, può stabilire che vi sia l'obbligo di lavoro all'interno di locali aziendali in determinati giorni, per esempio, in corrispondenza con riunioni. Oppure può prevedere un sistema di reportistica al superiore del lavoratore che, appunto, aiuta a verificare il raggiungimento di determinati obiettivi. E poi, ovviamente, come abbiamo già detto prima, strumenti di lavoro. Chi li fornisce? Il computer deve essere in eccessivamente aziendale. La connessione internet, il riscaldamento che è maggiore, il costo per il riscaldamento che saranno maggiori, li deve risarciare il datore di lavoro? Tutte queste questioni si pongono perché, come dicevo, nella legislazione non ci sono sufficienti determinazioni in tal senso. Differente è la questione del telelavoro. Se invece nel telelavoro vi è una definizione abbastanza più, diciamo, più completa, ecco. Il tema fondamentale per il lavoro agile è il tema della sicurezza sul lavoro. Ora, non so quanto siate ferrati sul tema della sicurezza sul lavoro, ma in generale possiamo dire che l'intero impianto prevenzionistico italiano si basa sulla valutazione concreta dei rischi di un ambiente di lavoro fatta appunto dal datore di lavoro. Ovviamente la valutazione dei rischi è più semplice se il lavoro è fornito solamente da un luogo, classica scrivania, ufficio, sede aziendale, valutazione dei rischi, pochi. Ovviamente se si lascia maggiore libertà al lavoratore di scegliere il luogo da cui egli può lavorare, appunto, è maggiormente complicato per il datore di lavoro fare la valutazione dei rischi e quindi appunto garantire l'incolumità del lavoratore. Da notare che nella legge appunto 81 del 2017, la sicurezza sul lavoro, l'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza sul lavoro del dipendente, che appunto è un vero e proprio dovere e obbligo, si considera espletato unicamente attraverso la consegna di un'informativa, un'informativa che appunto contiene i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Quindi semplicemente un documento. Ovviamente poi ci sono discussioni nella indottrina che sinceramente vi risparmio relativamente alla sufficienza appunto della consegna di questo documento per l'espletamento degli obblighi. La legge dice così, però diciamo che vi sono differenti interpretazioni. Ovviamente il lavoratore deve cooperare alla tutela della propria salute e sicurezza, quindi deve cercare di non mettersi in pericolo, non creare situazioni in cui la propria sicurezza sul lavoro può essere messa in pericolo. Ovviamente questo obbligo di cooperazione è fondamentale nel contesto del lavoro agile perché, come abbiamo detto prima, il datore di lavoro non ha la possibilità, cioè anzi ha un minore tipo di controllo sul luogo di lavoro e sull'ambiente, sulla salubrità dell'ambiente di lavoro. Quindi fondamentale è la cooperazione. Oh, benissimo. Ora arriviamo a quello che è, quello che vuole essere il centro della mia presentazione. Il messaggio che io vorrei far passare, anche e soprattutto per quanto riguarda appunto nell'ottica di un vostro futuro impiego anche in lavoro agile, è la necessità di controllare sempre la contrattazione collettiva. La contrattazione collettiva è una particolare fonte del ordinamento appunto italiano che nel caso del lavoro agile va spesso a integrare le disposizioni legislative, quindi va spesso a aggiungere, a specificare quelle disposizioni vaghe che non bastano per avere, diciamo, il quadro completo di quello che è il lavoro agile in una determinata realtà aziendale. Qui abbiamo un po' di storia appunto sulla contrattazione collettiva in materia di smart working o lavoro agile e possiamo vedere, cioè, l'importanza della contrattazione collettiva è, diciamo, è segnalata dal fatto che il lavoro agile o smart working, appunto, dicevamo, la cui regolazione di stella del 2017, era in verità già regolato dalla contrattazione collettiva ben prima, quindi, adesso io ho citato l'accordo nel 2012 perché è quello più antico che mi veniva in mente, però, sin diciamo dal 2010-2011, la contrattazione aziendale aveva già iniziato a discipulare questa modalità di gestione delle risorse che appunto si basava sulla possibilità degli sessi di fornire la prestazione da un altro luogo che non fosse la sede aziendale. Prima si è iniziato con la contrattazione aziendale, poi si è avuto un riconoscimento di questo tipo di modalità di lavoro a livello nazionale e poi abbiamo avuto appunto la legge del 2017, la quale, tuttavia, non richiama mai ufficialmente la contrattazione collettiva per quanto riguarda la disciplina dell'istituto. Cosa significa? Se alcune leggi, per esempio, legge Decreto 81-2015 relativo ai contratti a tempo determinato, quella legge richiama esplicitamente la contrattazione collettiva per quanto riguarda la disciplina di alcuni istituti. Per esempio, fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, bla bla bla, il termine massimo per appunto la stipulazione di un contratto, a tempo determinato, anzi la durata massima di un contratto a tempo determinato è a 24 mesi. Nel lavoro agile questo non succede, nella legge del lavoro agile. Tuttavia, vi è stato uno sviluppo autonomo della contrattazione collettiva nazionale e aziendale che va spesso a integrare, come dicevamo, la disciplina legislativa che è molto scarna. Ok, allora, breve recap per coloro che non hanno bene presente il sistema di contrattazione collettiva in Italia. La contrattazione collettiva in Italia si articola, diciamo, su due livelli. Livello nazionale, quindi contratti stipulati da datori di lavoro, associazioni datoriali e associazioni sindacali a livello nazionale che vanno a disciplinare, diciamo, come dicevamo, le regole del lavoro di un determinato settore medioceologico. Quindi abbiamo contratto nazionale del commercio, contratto nazionale del settore metalmeccanico, contratto nazionale del turismo, eccetera, eccetera, eccetera. E poi abbiamo la contrattazione aziendale. Contrattazione aziendale di secondo livello, che può, diciamo, regolare solamente gli aspetti che la contrattazione nazionale le delega e che, appunto, disciplina quello che è la regolazione, le generali regole del lavoro, possiamo dire così, all'interno di una determinata azienda, di un determinato gruppo, di un determinato stabilimento. Quindi, CCNL è l'acronimo per contratti collettivi nazionali di lavoro. Per quanto riguarda il lavoro agile, nei CCNL troviamo solamente delle disposizioni minime che vanno più che altro a definire la distinzione tra lavoro agile e telelavoro e poi, come dicevamo, a definire ambiti di intervento per la contrattazione aziendale. Nei rinnovi, perché ovviamente i contratti collettivi vanno rinnovati ogni quattro anni, troviamo tendenzialmente delle discipline, nei CCNL più recenti, ritroviamo, appunto, discipline più complete. Un esempio, se vi interessasse, è, per esempio, il contratto del settore credito. Il contratto del settore credito ha una disciplina molto, molto, molto dettagliata per quanto riguarda il lavoro agile. Invece, il classico, il classico articolo riguardante il lavoro agile nel CCNL è, per questo, è, diciamo, di questa, di questa portata. Questo è, ho preso un esempio, il CCNL grafici ed editori, che, quindi, appunto, regola tutto quel settore merceologico, il quale, per il lavoro agile, è detta solamente regole abbastanza generiche. Anche qui troviamo, di nuovo, la definizione. Troviamo le premesse, quindi, anzi, troviamo gli scopi, le finalità ai quali il lavoro agile è diretto. Troviamo, appunto, la necessità che, appunto, il lavoratore assorba le proprie mansioni con dirigenza, la garanzia dei diritti sindacali, eccetera. Quindi, molto, diciamo, definizioni, anzi, disposizioni molto vaghe, molto generiche, che non vanno, però, a darci informazioni su quello che è l'effettiva, concreta regolazione del lavoro agile in azienda. Invece, la contrattazione aziendale è molto più precisa, in questo senso. Qui abbiamo, per esempio, riportato alcuni dei contenuti tipici della contrattazione aziendale in materia di lavoro agile, quindi la definizione, criteri d'accesso destinatari, perché spesso non tutti i lavoratori subordinati all'interno di un'azienda sono, ogni età, a volte, ovviamente, hanno medesimo accesso allo smart working. Spesso alcune aziende, per esempio, limitano l'accesso a questa modalità di esecuzione del lavoro solamente ai lavoratori che hanno una determinata anzianità di servizio. Questo perché? Perché si fidano, cioè perché può sussistere una maggiore fiducia nell'effettivo espletamento dei compiti anche da remoto. Ovviamente, questo è una scelta libera delle aziende, quindi, poco, c'è poco da sindacare. Le modalità di attivazione, come faccio a stipulare un accordo individuale di smart working? Mando una mail al responsabile? Oppure, non so, ci sono altri modi? Modalità di svolgimento, quindi abbiamo detto quanti giorni a settimana, in che modo, l'orario, da dove posso lavorare, quali tempi di lavoro devo osservare, eccetera. Trattamenti retributivi e formativi di privacy, sicurezza, ne abbiamo parlato, revoca e recesso, quali sono le modalità. Ok, ovviamente dicevamo che la contrattazione aziendale ha avuto un grande peso nel regolare lo smart working anche prima della legge. Quindi, vediamo, a monte degli interventi normativi, abbiamo un'estensione a livello aziendale del lavoro agile. Durante il lockdown, ovviamente, il prima e il dopo sono parametrati sulla pandemia. Dopo l'adozione e l'alliterazione della disciplina emergenziale, la contrattazione aziendale prevede appunto che lo smart working faccia parte delle tante misure che appunto sono utili a prevenire il contagio da Covid-19. Tuttavia, tendenzialmente negli accordi Covid, possiamo dire così, non vi è una grande disciplina, non c'è, non vi è una grande regolazione della disciplina, anche perché molte aziende si sono trovate a definire, a introdurre anzi il lavoro agile per la prima volta durante la pandemia. In futuro, qual è il futuro dello smart work, della contrattazione aziendale in materia di smart working? È quello per cui vi sarà appunto, tale strumento sarà molto utile appunto per gestire le concrete modalità di implementazione strutturale della disciplina. Ok, qui adesso vi ho riportato alcuni estratti di contratti collettivi aziendali in materia di smart working che, come dicevamo, sono utili sempre per verificare quelle che sono le modalità concrete di esecuzione di questa modalità di lavoro. Per esempio, qui abbiamo la pianificazione delle giornate in modalità agile. Secondo, appunto, il contratto di italiana assicurazione 2019, la pianificazione delle giornate in modalità agile avviene con cadenza mensile, ok? E non può eccedere le sei giornate al mese non frazionabili. Quindi questa è una modalità come un'altra, anzi in particolare, in verità abbastanza comune, per appunto regolare in maniera omogenea il lavoro agile. Quindi ogni dipendente ha, in questo caso, sei giorni al mese che può svolgere da remoto. Le quali vengono pianificate con cadenza mensile. Ok, quindi queste sono tutte informazioni, ripeto, che non troviamo nella legge e che quindi dobbiamo verificare quando, appunto, ci viene proposto o ci offriamo per svolgere il lavoro agile, che dobbiamo verificare all'interno della contrattazione aziendale. Qui abbiamo un altro esempio, Arciai Speciali Terni, la Codro 2020, il quale prevede che per, diciamo, pianificare le giornate di lavoro agile vi debba essere una comunicazione preventiva al superiore, che comunque può chiedere la modifica della giornata in cui si svolge la giornata di lavoro agile, appunto, quando vi siano particolari esigenze tecnico-organizzative produttive. Quindi, ovviamente, qua, quando parliamo di giornata di lavoro agile, parliamo della giornata che si può svolgere da remoto, che, come abbiamo detto, può essere un tot alla settimana, un tot al mese, o alcuni accordi anche prevedono una percentuale, che ne so, il 20% della prestazione totale. Vari modi vi sono. Orale di lavoro. Orale di lavoro, il tema di orale di lavoro, come abbiamo detto, è un tema centrale nel lavoro agile. Qui vi ho riportato un degli estratti, degli accordi più, diciamo, più avanzati in materia di smart working, l'accordo Simens del 2017, il quale prevede che i lavoratori possano svolgere la propria prestazione lavorativa anche in maniera discontinua. Quindi, cosa significa? Che il lavoratore non deve essere necessariamente reperibile dalle 9 alle 6, ma ha una fascia oraria, entro la quale egli può decidere autonomamente come distribuire la sua prestazione di lavoro. Ovviamente, fermo allestando lo specifico di vieto di effettuare il lavoro notturno, e salvo particolari esigenze. Poi, qui abbiamo anche, vedete, i dipendenti saranno tenuti alla presenza presso le sede aziendali nelle serie di compresenza definite con gli spettivi responsabili, quindi vi è anche la possibilità per i datori di lavoro di individuare delle specifiche giornate, degli specifici momenti in cui anche il lavoratore da remoto debba essere presente nella sede aziendale per riunioni o coordinamento o formazione o qualunque altra cosa. E, come vediamo qui, il profilo orario attribuito ai dipendenti comporta la copiatura della giornata a prescindere dalla timbratura elettronica in ingresso e in uscita. Quello della timbratura elettronica è un passaggio un po' controverso, nel senso che molti accordi prevedono che vi sia appunto la timbratura del cartellino virtuale anche durante il lavoro agile, che va un pochino a contrastare appunto quello che dicevamo che è lo spirito della legge, che è appunto una mancanza di un controllo così specifico sulla prestazione aziendale. Infatti appunto vediamo come l'accordo Siemens ha, diciamo, mettere da parte questa possibilità. Abbiamo la cosa prima del 2020 invece ci va a definire quelle che sono le modalità aziendali di garanzia del diritto alla disconnessione. Allora, c'è da dire che questo diritto alla disconnessione è appunto, come dicevamo prima, un diritto di cui si appunto si parla moltissimo anche a livello europeo. c'è una direttiva, se non ricordo male, un progetto di direttiva del Parlamento europeo che andrà appunto all'inizio di disciplinare appunto questo diritto, è un diritto che può essere garantito in molti modi. La scelta di team è quella di favorire comportamenti di buona convivenza virtuale, quindi un approccio abbastanza soft, che non comporta lo spegnimento di server o diciamo misure appunto tecniche, proprio tecniche per assicurare la disconnessione del lavoratore. Ma, per esempio, si utilizzano diciture come il lavoratore non sarà, durante le interruzioni temporanei autorizzate, come la pausa pranzo, il lavoratore non sarà tenuto a ricevere e visualizzare eventuali comunicazioni aziendali. Cosa significa? Significa che, anche se questo è abbastanza rilevante, nel senso che se ricevo una mail durante la pausa pranzo alle 9 di sera e non rispondo, non è considerato in adempimento della mia prestazione. Quindi questo già potrebbe essere più, è leggermente più specifico. Poi, per esempio, l'accordo team va a, diciamo, disciplinare questo diritto anche attraverso l'impostazione di uno status su Skype, per esempio, occupato, non connesso durante determinate fasce orarie della prestazione. Comunque, l'importante comunque è capire perché si è... in tutte le contrattazioni del caso. Perché, come appunto poi si è visto anche per l'altro durante il lockdown, è frequentissima, diciamo che il lavoro da remoto può provocare stress, eccessivo stress rispetto al lavoro in presenza, una commissione tra tempi di vita e tempi di lavoro, non invece di, non so, se vado a lavorare in ufficio, dalle nuove alle 6 alle 6 esco. Perché, non so, o il cartellino, o tutti i miei colleghi comunque escono alle 6, quindi esco anche io alle 6 per, non dico pressione, ma per convenzione sociale, eccetera, eccetera. Se sono a casa, non ho nessuno di questi elementi. Quindi, magari, se voglio, posso lavorare fino alle 8, oppure mi fanno lavorare fino alle 8. Quindi, i miei tempi di vita, i miei tempi di lavoro, non sono particolarmente separati, anzi, tendono a essere sempre più interconnessi. Questo cosa può provocare, come abbiamo detto, stress, o fino ad arrivare a episodi di così detto burnout. quindi, un pseudoesaurimento nervoso. Quindi, dato che il legislatore era consapevole di questo rischio al momento dell'emanazione della legge, ha previsto che si dovesse, appunto, disciplinare nell'accoglio individuale le modalità, appunto, relative al diritto alla disconnessione. Perfetto. Allora, andando un pochino veloce, perché sto arrivando quasi alla fine del tempo, luogo di lavoro, come dicevamo, alcuni accordi vanno a individuare, appunto, gli specifici luoghi dal quale il lavoratore può prestare la propria prestazione da remoto, oppure, come nel caso di Alpitur, dà delle regole più generali. Impone, per esempio, ai lavoratori di evitare luoghi particolarmente rumorosi, che distribuino la comunicazione con l'esterno. Il luogo deve essere idoneo a garantire il rispetto della normativa vigente in tema di privacy, anche, appunto, per evitare che informazioni riservate aziendali possono essere lette da terzi. Esempio, lavoro in biblioteca, chiunque può vedere a che cosa sto lavorando e informazioni, appunto, relative alla mia azienda. Poi, qui, ho scelto questo accordo perché c'è una particolare clausola, che non si vede spesso, in realtà, nella quale si sostiene che il lavoratore debba garantire il servizio in un ambiente idoneo e la decezione di chiamate, anche nell'ottica di non recare danno all'immagine aziendale, nei confronti di esterno e altri colleghi. Quindi, evitare il rumore di elettrodomestici, familiari, animali. Quindi, in generale, scegliere una postazione di lavoro che non rechia, appunto, danno all'immagine aziendale, quindi idonea. Quindi, invece, l'accordo di più produzione utilizza un altro modo di regolare, appunto, la questione del luogo di lavoro, sancendo che la prestazione deve essere effettuata preferibilmente presso il domicilio e la residenza o presso altre abitazioni. Quindi, la razio, qui, è di evitare i luoghi pubblici. E poi, si sancisce che questo luogo di lavoro deve fornire sufficienti garanzie in termini di conformità alle norme di sicurezza sul lavoro. Quindi, anche qui, evitare che il lavoratore si metta in pericolo. Ok, allora, arriviamo all'ultimissima parte della presentazione che si concentra sulla disciplina emergenziale ed è soprattutto utile per coloro i quali, coloro, appunto, di voi, che probabilmente troveranno o si troveranno a esercitare lavoro agile prima della fine dello stato di emergenza sanitaria. perché, come sappiamo, oggi il lavoro agile non è regolato, anzi, è sempre regolato dalla legge 81 del 2017, ma tale legge ha subito alcune modifiche grazie ai decreti, vari decreti, che si sono susseguiti nel corso del 2020, che sono andate a modificare, appunto, gli elementi fondamentali di tale legge per, appunto, ragioni relative alla pandemia. Allora, in particolare, la disciplina emergenziale è andata a modificare, appunto, l'accesso al lavoro agile, sancendo che oggi non c'è bisogno, fino alla fine dell'emergenza sanitaria, non c'è bisogno della stipulazione di un accordo individuale, quindi si può accedere al lavoro agile anche in modo unilaterale e senza, appunto, la necessità di stipulare un vero e proprio accordo. Poi, l'informativa di salute e sicurezza di cui abbiamo parlato prima può essere fornita solamente, anche solamente tramite un modello già precompilato che si trova nel sito dell'INAIL. Poi estende, diciamo, la possibilità o il diritto o addirittura crea un diritto allo smart working per categorie particolari e, diciamo, regola maggiormente la questione della strumentazione. Ad oggi, la scadenza dello smart working semplificato è il 31 luglio del 2021, ma comunque andrà, diciamo, sarà prorogato insieme alla proroga, appunto, dello stato di emergenza, quindi vedremo. Già oggi si parla di un'estensione dello smart working fino al 30 di settembre, se non sbaglio, nella pubblica amministrazione siamo già al 31 dicembre, quindi sicuramente vi sarà qualche altra proroga. Bene, quindi dicevamo, in particolare, la disciplina emergenziale va a toccare alcuni punti. Quindi, crea un diritto al lavoro agile per i lavoratori disabili e coloro che hanno familiari disabili, lavoratori immunodepressi, eccetera, e crea anche delle priorità nell'accoglimento delle richieste di lavoro agile per persone con ridotte capacità lavorative, lavoratori immunodepressi, eccetera. importante è che queste priorità vanno a sommarsi a quelle che sono già presenti nella legge del 2017, che già, diciamo, sancisce che, se non ricordo male, le donne nei tre anni successivi al congelio di maternità hanno priorità appunto nella valutazione delle loro richieste all'accesso al lavoro agile. Importante è che tali disposizioni non sono sottoposte a termine e quindi opereranno anche al termine dell'emergenza sanitaria. Sono anche previsti diritti, un diritto al lavoro agile per genitori con figli under 14, ovviamente questa era una una disposizione che era particolarmente utile quando le scuole erano chiuse. Come dicevamo, viene meno la necessità di stipulare un accordo individuale di lavoro agile. Ovviamente anche qui mera facoltà del datore di lavoro il quale può stipulare accordi individuali se lo desidera, però ovviamente dato che questa previsione semplifica di molto gli oneri a carico del datore di lavoro tendenzialmente ciò non avverrà mai. Dicevamo possibile adempiere l'obbligo di informativo in materia di sicurezza in forma semplificata. Sono diverse le modalità di comunicazione dell'adiezione dei lavoratori nella modalità agile, ci interessa relativamente e poi viene esplicitata la possibilità di utilizzare device personali per lo svolgimento della prestazione da remoto. Quindi è possibile viene appunto sancito esplicitamente che i lavoratori possano utilizzare device personali. Ora, tendenzialmente questa è una clausola che è importante soprattutto per quanto riguarda appunto lo smart working emergenziale. in vari buona parte degli accordi aziendali si sancisce invece che la strumentazione è tendenzialmente fornita dall'azienda. Ma questo perché? Perché dato che la legge invece sancisce che la sicurezza e il buon funzionamento degli strumenti devono essere garantiti dall'azienda, è più semplice per l'azienda appunto operare un controllo sulla strumentazione che viene fornita da loro. Niente, si dice invece per quanto riguarda la connettività, i costi appunto, il rimbolso dei costi legati a elettricità, internet, riscaldamento, i quali sono invece tendenzialmente a carico del lavoratore. Bene, questa è l'ultima slide, la fine della mia presentazione che va a riassumere un po' quelli che sono i tratti principali dello smart working e il lavoro agile sia in una prospettiva ordinaria che in una prospettiva emergenziale, punti fondamentali, il lavoro agile non è un contratto a sé stante ma una mera modalità di esecuzione del contratto di lavoro subordinato, chiaro, dovrebbe essere basato su una grande flessibilità spaziale temporale e un'organizzazione per obiettivi, nella pratica spesso non è così, attenzione, questo vale soprattutto per il periodo emergenziale ma vediamo già accordi di lavoro agile che si limitano a traslare le modalità di lavoro in azienda da remoto, quindi prevedono che ne so, orari fissi, appunto non c'è un'organizzazione per obiettivi ma solamente basato sul controllo, ecco, quindi dipende moltissimo dall'azienda che mette in pratica appunto il lavoro agile, dipende dal settore, dipende dall'azienda, soprattutto dall'azienda. infatti la legge non basta nel senso che come ho detto varie volte le disposizioni legislative sono scarne e generiche quindi una fonte fondamentale per la contrattazione aziendale scusate per conoscere le regole effettive del lavoro agile è la contrattazione nazionale e la contrattazione aziendale. Grazie a tutti per l'attenzione questi sono i riferimenti di Twitter e sito internet di Adapt quindi se volete seguire allora io mi occupo principalmente di smart working quindi se siete interessati a definire a diciamo a qualcosa di un pochino più approfondito sullo smart working potete seguire me se invece vi interessa l'attività di Adapt qui abbiamo il riferimento Twitter e il sito siamo sempre alla ricerca di giovani che si vogliono confrontare con questi temi grazie a tutti perfetto abbiamo attivato l'audio quindi chi volesse intervenire con l'alzata di mano può prenotare la propria domanda e porla la nostra relatrice e in chat c'è già una domanda vedo allora stage in smart working al di fuori dell'emergenza sanitaria è disciplinato possibile? ok disciplinato no perché lo stage non è un contratto di lavoro questa è una una cosa che molti non sanno ma lo stage non è un vero e proprio contratto di lavoro è una convenzione di stage e ciò implica come sappiamo varie varie cose quindi per esempio che il pagamento non vi è un pagamento di una vera e propria retribuzione ma di una mera indennità non vi sono non vi è il pagamento di contributi eccetera ma sto divagando quindi non rientra nella definizione di contratto di lavoro subordinato presente nella legge 81 del 2017 durante l'emergenza sanitaria ovviamente dato che si è derogato a molte clausole di questa legge invece sì nel senso è stato disciplinato come ma tu mi chiedi ovviamente al di fuori dell'emergenza sanitaria al di fuori dell'emergenza sanitaria tendenzialmente no tendenzialmente non è possibile anche se alcune aziende in realtà stanno già prevedendo stanno già diciamo lavorando perché ciò sia possibile tendenzialmente no diciamola così anche perché si sa è diciamo opinione comune anche tra diciamo i char e aziende in generale che la formazione da remoto sia molto più complessa quindi diciamo che anche per gli elementi che ho delineato prima nel senso che l'azienda anziché lo smart working è tendenzialmente concesso più che altro a lavoratori con una grande anzianità di servizio diciamo che concedere a stagisti sarebbe non è particolarmente usuale spero di aver risposto alla tua domanda ci sono altre domande? grazie a te quali sono le risorse ad app gratuite? oh benissimo allora sfoglio una porta aperta perché io ci ho scritto la tesi con le risposte di laurea con le risorse di ad app gratuite allora innanzitutto in primis noi abbiamo un bollettino che esce ogni lunedì e che sul quale diciamo sono presenti articoli relativi alle aggiornamenti diciamo all'attualità appunto sia del diritto del lavoro che delle relazioni industriali ma anche riguardanti appunto economia insomma il nostro è un gruppo multidisciplinare quindi gli aggiornamenti sono molti quindi se si vuole una panoramica di quello che è successo durante la settimana bollettinoadapt www.bollettinoadapt.it abbiamo anche serie di ebook ebook gratuiti che appunto sono consultabili sul nostro sito abbiamo anche la pubblicazione di tesi di laurea cioè ovviamente non per fare autopublicità ma c'è la mia per esempio che escono appunto in formato di ebook adapt e che sono gratuitamente consultabili se interessa il tema della salute e sicurezza abbiamo anche un un sito apposito che è www.salus.adapt.it vado a memoria non lo ricordo bene comunque lo trovate molto facilmente in cui trovate anche cose riguardanti salute e sicurezza allora come posso conoscere com'è lo regolamento dello smart working in azienda posso chiedere il contratto collettivo sì sì assolutamente sì è questa è una cosa che non molti sanno però è un diritto del lavoratore conoscere le regole che appunto delle regole collettive applicabili in azienda quindi sì una copia in teoria alla code individuale di smart working dovrebbe essere già legato il regolamento aziendale se presente una copia dovrebbe essere già legata se no assolutamente sì è possibile chiederlo chiederlo ma anche cioè in teoria dovrebbe essere anche se non ricordo male disponibile una copia del contratto nazionale quindi mi raccomando sappiate che questo è un vostro diritto non c'è non c'è niente che ve lo possa togliere non ci sono segreti in questo in questo senso e sulle risorse adap spero di essere state esauriente se no chiedete perché ovviamente magari ho dimenticato qualcosa ci sono domande anche più specifiche insomma sono qui sono disponibili io invito le ragazze a uscire dall'imbarazzo che magari ci può essere perché quando si trattano dei temi che si erano diciamo molto tecnici come questo che comunque hanno impronta gius lavorista si ha magari un pochino paura di sbagliare ma secondo me se i vostri dubbi li esponete in questa sede quando vi troverete in un contesto professionale a dover magari aver voglia di ricevere una risposta su questo quesito ecco non avrete più quell'imbarazzo quindi se c'è un imbarazzo non siete sicuri di porre la domanda giusta in modo corretto utilizzate questo palco perché assolutamente qua nessuno vi giudica vi critica anzi siamo solamente contenti di condividere insieme sottoscrivo totalmente ho sentito parlare anche di home working che differenze ci sono ok allora home working è un termine che è stato utilizzato per definire appunto anche qua il lavoro svolto durante il lockdown ovviamente allora diciamo che l'ambiguità dei termini è la seguente home working sanci cioè come si può dire definisce una modalità di lavoro che è svolta interamente da casa ok in Italia non è un termine particolarmente utilizzato perché noi parliamo generalmente di smart working definendo un po' qualunque cosa home working però definisce appunto una modalità di lavoro svolta a casa sarebbe possiamo dirlo il cosiddetto tele lavoro tradotto in italiano home working è un termine però utilizzato molto spesso nei paesi anglofoni dove fun fact il termine smart working non esiste ce lo siamo tendenzialmente inventati noi all'estero si parla tendenzialmente di telework se parliamo appunto di paesi anglosassoni o di appunto di home working non si parla di smart working quindi tendenzialmente home working totalmente tendenzialmente totalmente a casa figurati provo a fare una domanda io che è una cosa che può interessare speriamo di riuscire a rispondere diciamo che è un confronto più che altro perché giustamente durante il periodo di pandemia come è stato ah no c'è una domanda quindi lascio la parola quindi home working è il termine più adatto per definire il lavoro da casa durante la situazione emergenziale sì molto semplice sì sono stati utilizzati altri termini tipo lavoro agile domiciliare telelavoro adesso non ricordo telelavoro a domicilio appunto qualcosa di questo tipo però sì tendenzialmente si è svolto home working non era smart perché in molti casi diciamo che di smart a livello appunto di gestione per obiettivi eccetera eccetera c'era poco però sì continuo la mia riflessione che magari stimola qualcuno giustamente i ragazzi hanno sperimentato durante l'emergenza sanitaria degli stage in modalità smart working perché giustamente era un modo per venire all'incontro e permettergli di fare quell'esperienza senza restare indietro nel percorso accademico successivamente abbiamo adottato insieme alle aziende anche la possibilità di attivare gli stage in quella che viene definita una modalità mista ovvero dei giorni in presenza e dei giorni a casa anche per venire incontro alle tournazioni che le aziende prevedevano anche per i propri dipendenti tu pensi che dato che dicevi che le aziende stanno comunque riflettendo sulla possibilità di adottare lo smart working anche per gli stage in realtà questa modalità mista potrebbe essere una soluzione interessante perché non lascia completamente lo studente da solo ma gli dà la possibilità di essere affiancato e poi anche di mettersi anche un po' alla prova da solo perché il fatto di trovarsi a casa diciamo abbandonato in un certo senso però può essere una sfida tu cosa ne pensi? Allora come dicevo prima il allora tendenzialmente questa situazione di stage da casa io personalmente e da quello che dalle opinioni che sento penso rimarrà abbastanza limitata all'emergenza sanitaria perché e ovviamente a questo si collega la domanda che mi hai fatto sulla questione modalità mista o no modalità mista ha comunque una funzione di prevenzione del contagio nel senso che anche quando anche a settembre a settembre quando si pensava questo settembre quando si pensava che fosse tutto finito stagisti eccetera eccetera almeno tendenzialmente erano tutti in presenza perché perché come dicevamo la formazione è opinione appunto diffusa anche in vari webinar si sente molto questa cosa che in realtà la formazione da in presenza e l'affiancamento con un superiore sia molto più semplice ovviamente da in presenza che da remoto quindi lo stage in smart working o in modalità mista io lo vedo qualcosa che rimarrà legato all'emergenza sanitaria liberissimo di essere smentita ovviamente però a livello strutturale io penso che appunto lavoro da remoto sarà più che altro limitato a quei soggetti che appunto hanno un grado di autonomia tale da poter svolgere la propria prestazione anche non all'interno di locali aziendali certo voglio dire c'è una possibilità non esistono tra l'altro se vogliamo fare una postilla non esistono norme che appunto impediscano al di fuori ovviamente dell'emergenza sanitaria che per esempio impediscano all'azienda di diciamo delimitare lo smart working solamente ad alcuni lavoratori e non ad altri vediamo spessissimo negli accordi aziendali che dicevo gli apprendisti per esempio coloro che hanno un contratto di apprendistato spesso sono esclusi dai da coloro che possono svolgere lo smart working quindi diciamo che c'è c'è una una tendenza a garantirlo solamente a lavoratori esperti e maturi grazie e grazie di aver comunque citato la condizione degli apprendisti perché comunque anche le università possono fare l'apprendistato di terzo livello quindi hai dato un input interessante vedo intanto che ci sono due domande in chat allora come unire il lavoro di squadra con caratteri diversi con un lavoro intelligente attraverso lavoro a distanza facile o difficile domanda allora grande domanda domanda da fare forse più che altro a soggetti che si occupano di organizzazione delle risorse umane e non a meri legali come me però tendenzialmente allora il lavoro in squadra ovviamente è come sappiamo è fondamentale per l'organizzazione del lavoro moderna in diverse aziende e quindi sostanzialmente spesso sul carattere diverso non saprei non saprei precisamente come rispondere però ti posso dire che in molti casi per esempio le aziende stabiliscono degli orari anche se stabiliscono per esempio delle fasce orarie molto lunghe durante le quali il lavoratore può svolgere la prestazione diciamo in modo autonomo insomma quando vuole spesso però in queste fasce orarie sono previste delle fasce di compresenza per esempio che ne so dalle 10 alle 13 o dalle 14 alle 17 dentro all'interno delle quali appunto vi deve essere la necessaria presenza dei lavoratori che così almeno possono appunto lavorare possono più facilmente lavorare in team oppure svolgere riunioni eccetera quindi anche nei casi in cui vi è un'implementazione diciamo strutturale dello smart working ci sono comunque dei metodi che le aziende utilizzano per favorire la compresenza e il lavoro di squadra dei dipendenti quindi non è da pensare non si deve pensare allo smart working come un qualcosa di nel senso ognuno nel suo computer fa il suo e basta non è non è ovviamente come ognuno come tutti coloro che lavorano in un contesto aziendale sanno le riunioni e i meeting eccetera sono una cosa fondamentale quindi ci sono anche dei metodi ovviamente per svolgerli nel modo più comodo possibile l'intelligenza artificiale di cui ormai si sente sempre più parlare può avere un impatto sullo smart working ad esempio a valutare la produttività o allora anche qui domandina facile e anzi l'intelligenza artificiale è sicuramente uno dei temi che sono più dibattuti con riferimento allo smart working bisogna fare attenzione però perché la legge italiana pone dei limiti agli strumenti attraverso i quali è possibile controllare a distanza il lavoratore esempio questo forse non l'ho non l'ho sottolineato nella mia presentazione perché era un po' andavamo un pochino più sullo specifico però l'articolo 4 dello statuto dei lavoratori è statuto che legge 300 del 1970 vi consiglio a tutti coloro che si approcceranno al mondo di lavoro di leggere bene perché è diciamo la carta fondamentale dei diritti del lavoratore comunque articolo 4 statuto dei lavoratori prevede appunto che non sia possibile inserire non sia possibile diciamo inserire strumenti di controllo a distanza del lavoratore se non per specifiche ragioni tipo tutela del patrimonio aziendale comunque robe non legate alla produttività e all'adempimento della prestazione e quindi che non sia possibile farlo che sia possibile farlo solamente dietro un accordo sindacale quindi diciamo che intelligenza artificiale sì dopo valutazione al massimo del sindacato e comunque non e comunque in modo da diciamo non ledere il regolamento della privacy il regolamento sulla privacy il cosiddetto GDPR regolamento 679 del 2016 il quale impedisce per esempio l'utilizzo di strumenti tipo webcam che appunto controllano il lavoratore in modo appunto molto pressante oppure strumenti di registrazione della tastiera ovviamente parliamo del contesto italiano ovviamente se parliamo di aziende americane cambia tutto nel senso se andiamo a lavorare all'estero al di fuori dell'Unione Europea l'impostazione della privacy cambia parecchio quindi vabbè però quindi sì l'intelligenza artificiale magari può aiutare però è sempre necessario avere bene in mente quelli che sono i limiti di legge soprattutto in materia di privacy e comunque strumenti così invasivi della produttività in teoria vanno un pochino contro quella che è dicevamo la filosofia dello smart working filosofia basata sulla fiducia quindi al massimo c'è in teoria qualcosa di coerente con la la come si può dire la filosofia dello smart working potrebbe essere magari un report giornaliero settimanale su sui risultati raggiunti oppure se effettivamente pensiamo al mio lavoro io faccio la ricercatrice ovviamente ho delle scadenze per quanto riguarda che ne so progetti europei eccetera eccetera anch'io adesso sono a casa mia lavoro in smart working io vengo valutata non sulla base dell'orario che svolgo ma sulla base dei risultati che porto quindi per esempio i che ne so gli articoli che scrivo oppure le ricerche che faccio per aziende o i corsi che svolgo eccetera eccetera quindi tendenzialmente sarebbe da valutare più che altro la valutazione sarebbe più che altro la valutazione dei risultati a venire in oggetto appunto con questa modalità di lavoro prego e allora Michele chiede le login di accessi gestionali possono essere una forma di controllo dal 2015 sì anzi allora diciamola meglio 2015 Jobs Act va a modificare l'articolo 4 dello strutturato di lavoratori il quale e sostanzialmente elimina la necessità di un accordo aziendale ora vado a memoria spero di non dire cose particolarmente spero di essere più il più precisa possibile va a eliminare la forma di accordo aziendale l'accordo aziendale per strumenti di controllo di distanza relativi appunto a modalità di accesso ai diciamo appunto dispositivi di accesso quindi è una forma di controllo in teoria sì secondo la legge tendenzialmente no perché non c'è almeno non così pressante come altre forme ora magari possiamo anche andare a prendere l'articolo 4 che così almeno rispondiamo bene a questa domanda allora se mi date un secondo lo trovo allora eccolo ok allora ora ricondivido lo schermo ok eccoci allora questo è l'articolo 4 del tutto dei lavoratori nella versione pre 2015 e post 2015 quindi se andiamo a vedere allora la disposizione di quel comma 1 quindi quella per cui esigenze organizzative produttive sicurezza del lavoro e tutela del patrimonio aziendale possono essere installati per vi accordo non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi delle presenze quindi ecco e qui voi mi direte sì allora gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione tra questi si va a comprendersi anche per esempio il computer o insomma altri mezzi informatici per rendere la prestazione a distanza io vi dirò sì quindi effettivamente non c'è più la necessità di un accordo aziendale quindi il vero limite il vero la vera barriera all'introduzione di strumenti invasivi per il controllo della privacy è la è la legge sulla privacy che vedete qui ecco qua per esempio abbiamo citato il codice della privacy del 2003 il quale tuttavia ovviamente è stato aggiornato chiaramente in seguito all'introduzione del regolamento europeo che è inderogabile e che è anche abbastanza pesante a livello di possibile diciamo prevede delle disposizioni abbastanza che tutelano fortemente lavoratore e comunque cittadini in generale di aspettare Grazie a tutti